Buongiorno a tutti, siamo qui e per bene parlare po' russo, abbiamo dettagli tutti i quali strumenti. Sì, da inizio, usiamo il sistema del metodo comunicativo di una scuola linguistica russa, più precisamente di Yefim Passov, fortemente adattata dalla sottoscritta per il YouTube. E via che si parte! Vai avanti benissimo, hai la tenacia al livello giusto e la comprensione del fatto che gli errori sono i nostri alleati che aiutano a capire meglio dove ti trovi e quale approccio e velocità servono a te personalmente. Quindi gli errori sono i nostri amici e le affrontiamo con serenità. Per questa lezione ho preparato delle frasi che ti faranno ripassare attorno a una ventina delle lezioni precedenti. La nostra nuova regola del prepositivo dei pronomi personali la abbiniamo a queste vecchie regole qui e vediamo cosa ne viene fuori. Ora vediamo alcune parole che dovrai sentire o usare nella tua conversazione. Le parole sono queste, a vot e nuove slava. Ripassando il caso accusativo, in particolar modo nell'indicazione di una durata, come diresti, per tutta la durata del mio viaggio. Alla lettera sarà tutto mio viaggio. Ottimo! Pajestka è un viaggio piccolo di qualche ora o di alcuni giorni. Per viaggi più importanti usiamo la parola путешествие. Magari la vediamo più avanti. Come si dice ape? Cilla. Ovviamente si tratta di un insetto, non delle macchinine che ci sono in Italia. Come si dice cartella? Popka può essere sia una cartella cartacea sia quella del computer. Come la metteresti al plurale? È la regola delle sette sorelle, perciò usiamo la i finale. Popki. Benissimo! Queste sono le parole completamente nuove in questo corso. Inoltre ripassiamo alcune parole e regole che abbiamo visto in passato ma che potresti non ricordare più. Этот Это Нигде Никто Никогда Прекрасно Мебель Поэтому Поэтому Молчи Не Молчи Писать Писал Пишут Экономить Экономлю ДИЕЛАЙ ДИЕЛАЙТЕ Sappiamo che se dobbiamo usare la parola ETA come predicato, rimane sempre alla stessa forma del neutro. ETA Per esempio nella frase Questo è un tavolo. La parola questo, per le regole della grammatica russa, non è un attributo ma il predicato della frase. Quindi usiamo la forma neutra. ЭТА ЭТАСТОЛ Ma se dobbiamo dire la frase questo tavolo è nuovo, la parola questo in russo non è più il predicato ma un attributo. Un piccolo trucco per capire la differenza è vedere dove è posizionato il verbo essere in italiano. Se è subito dopo la parola questo, usiamo la forma invariabile al neutro, ETA. Se tra questo e il verbo essere c'è un sostantivo, la forma va coniugata con il sostantivo. La frase questo tavolo è nuovo contiene l'attributo, che per le regole della grammatica italiana è un aggettivo. Quindi cambiamo la forma. Il tavolo è maschile, via che si va con il maschile. ЭТОТ Confronta ancora. Questo è un tavolo. ЭТАСТОЛ Questo tavolo è pulito. ЭТОТ Altri esempi. Questi sono dei tavoli. ЭТОТ Questi tavoli sono blu. ЭТИ СТАЛЫ СИНИЕ Perfetto. Andiamo avanti. Продолжаем. Ora, come diresti nessuno? НИКТО Bene, come si dice da nessuna parte? НИКТИЕ La parola ДОВЕ prende il prefisso negativo НИ, così diventa da nessuna parte. НИКТИЕ Come si dice nel negozio dei mobili? Considerando che in russo si può dire nel negozio con l'insegna immobili. Con l'insegna è sottinteso. NEL NEGOZIO MOBILE В МАГАЗИНЕ МЕБЛ Esiste anche l'aggettivo MЕБЛНИЙ che si usa spesso, ma noi adesso useremo questo costrutto. В МАГАЗИНЕ МЕБЛ Come chiedi PERCHE? ПАЧЕМУ Come si risponde PERCHE? E così via. ПАТАМУСТА ПАТАМУСТА Come si dice PERCIО? ПАЭТАМУ Ricordiamo il verbo SCRIVERE che è un verbo irregolare. All'infinito è PISAT. Da questa forma viene anche il passato. Come diresti? Io scrivevo. PISATO IA PISAU O al femminile IA PISAULA Per dire lo stesso verbo al presente sostituiamo la ES con la SHA. Come diresti? Io scrivo. Io scrivo. Io scrivo IA PISSU. Al presente, solo in questa forma, l'accento tonico è sulla fine della parola. Per ultima cosa ricordiamo i verbi egoisti, ovvero quei verbi che solo alla forma di prima persona singolare acquisiscono un particolare. Per esempio, i verbi in EL. Solo la forma di IO avrà questa EL in più. Mentre in tutte le altre forme, il passato compreso, non ci sarà nessuna EL in quel punto. Ottimo. Qualche forma dell'imperativo l'hai vista sullo schermo e non ci soffermiamo più di tanto. Proseguiamo con la conversazione. Ascolta dei brevissimi dialogi. Послушай эти dialogi. Я буду читать их два раза. Первый раз медленно. Второй раз быстро. В первый раз не будет текста на экране. А во второй раз будет текст, и ты можешь читать вместе со мной. В третий раз говоришь ты, а я только помогаю. Это наша работа. Ты говорил о нас? Да, конечно, делайте эту работу. Я никогда не экономлю время и раньше не экономил. Что это? Новая статья? Да, и в ней пишут о фильме «Товарищ». Никто ещё не писал о фильме «Товарищ» в газете. Почему ты так смотришь? Не молчи. На тебе сидит пчела. Поэтому я так смотрю. Ты думала обо мне каждый день. Всю мою поездку я думала о тебе. Ты была в магазине «Мебель» в пятницу. Да, теперь у меня есть новый матрас. И я прекрасно сплю на нём. Я рада. А я не сплю хорошо нигде, к сожалению. Это папки Елена? Что в них? В них моя музыка. Я пишу музыку. Как ты знаешь, я люблю твою сестру. И эта музыка о ней. kilowatt. Это акция «Принято в первом фоне». Сахай в два раза. Сухи! che tu traduci questi dialoghi dall'italiano al russo, ascoltali ancora, allenando la tua capacità di capire un discurso veloce. Puoi ascoltare senza leggere e così appunto alleni l'orecchio. Oppure puoi ascoltare e leggere, così si perfecciona la tua pronuncia. Via. Это наша работa. Ты говорила нас? Да, конечно, делайте эту работу. Я никогда не экономлю и раньше не экономил. Что это? Новая статья? Да, и в ней пишут о фильме «Товарищ». Никто еще не писал о фильме «Товарищ» в газете. Почему ты так смотришь? Не молчи. На тебе сидит пчела, поэтому я так смотрю. Ты думала обо мне? Каждый день, всю мою поездку, я думала о тебе. Ты была в магазине «Мебель» в пятницу? Да, теперь у меня есть новый матрас, и я прекрасно сплю на нем. Я рада. А я не сплю хорошо нигде, к сожалению. Это папки Елена? Что в них? В них моя музыка. Я пишу музыку. Как ты знаешь, я люблю твою сестру, и эта музыка о ней. Очень хорошо. Идем дальше. «Музыка» «Con molta calma, mettendo la pausa, se vuoi, prova a tradurre questi dialoghi dall'italiano al russo. Lascia stare i momenti che non riesci a ricordare, semplicemente scorre avanti. Un'altra volta ti verrà meglio». Vai con il primo, poi ti aiuto con l'originale. «Это наша работа». «Ты говорил о нас?» «Да, конечно». «Делайте эту работу». «Я никогда не экономлю время». «И раньше не экономил». «leş Lana». «Будьerenь у нее дам». «Es North Korea». «И раньше не изменил того, что ли?» «Я никогда не экономил Druckracker». « ontр ½ километра». «Nun 유vedو». « jed и к�чин нет». «Д人 25», ты «êter». «ヤ нед Иван». «Он». «Д consumers элит». «Дawy мы с taught». «Нанда». «Щ в унам». «Дай». «Он» «Дый». «Дэ» «Д Metro». «Дэ» «ió». «Дэ» «Щ Chris». gidnorим, «дэ». «Дэ» « trat». «Дэ» «Он слушания». «Дэ» 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 «Дат». новая статья да, и в ней пишут о фильме товарищ никто ещё не писал о фильме товарищ в газете экольтерцо диалогу не молчи на тебе сидит пчела поэтому я так смотрю ты думала обо мне? каждый день всю мою поездку я думала о тебе ты ты была в магазине мебель в пятницу да, теперь у меня есть новый матрас и я прекрасно сплю на нём я рада а я не сплю хорошо нигде к сожалению мы и я не не Grazie a tutti. Это папки Елена? Что в них? В них моя музыка. Я пишу музыку. Как ты знаешь, я люблю твою сестру. И этап музыка. Аней. Ci siamo! Questo sì che era un esercizio molto grosso, lungo e assai difficile. Se hai tradotto la maggior parte, almeno il 60%, senza nessun aiuto, hai fatto un lavoro eccellente. Ricordati che alcune tappe dell'apprendimento di una lingua straniera sono facili e brevi, altre, come questa qui di oggi, più lunghe e impegnative. Però deve rimanere un piacere, un divertimento, pieno di piccoli successi. Non badare alle cose che non hai potuto fare. Guarda quel che sei riuscito, riuscita a superare. Queste sono le tue piccole vittorie. Prima di proseguire, ripassa la serie dedicata al caso prepositivo dei sostantivi. Di nuovo, complimenti e ci vediamo presto. Da Skurava! Ciao! 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 Ciao!